Samy, 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 Samy. Siamo tutti da Lecce e anche da Prizi, siamo diretti a Bari per il paio per quanto. con me il mio amico, incontrare altri amici e anche alberico incontrare un altro come penso bene, quindi ci vediamo, ciao, ciao belli ragazzi siamo a Bari abbiamo incontrato un altro nostro amico prima o poi arriveremo, allora ragazzi sono passati appena 10 minuti che siamo a Bari e ci siamo persi, adesso gentilmente quella signora che vedete avanti ci sta aiutando a trovare una fermata a chi ci forse al WonderCon dietro c'è la macchina, dovrebbe passare dietro c'è la macchina c'è un sacco di gente di regola ma qual è il pazzo? ecco, l'ho preso no, vediamo fila oh, ci sarò la porco giuda nella fila no, noi abbiamo la preventiva, basta, possiamo entrare? no, io vado davanti proviamo a saltare ragazzi, siamo finalmente dentro la fiera del Levante chi è ancora vuota? chi è ancora vuota? chi è ancora vuota? guarda, 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 guarda che confusa avete scritto prima, prima mazzate ma ti faccio vedere lo schiavolo? io quando è con, lì ci sarà il verico e il maschio e il latte Ero morto per un'acciaio a lei Grazie, devo per forza provare questo Grazie 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 Brazzo Michele 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 Mi tiro col brazzo Brazzo Ragazzi siamo in fila da tipo due ore abbiamo fatto le foto con Brazzo, Stormy, Dexter, Violetta, Fiora Brazzo Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti